Eh sì, ha proprio ragione, ministro, ma le dirò di più. Non solo lo studio delle guerre puniche è inutile, è addirittura dannoso. È certo, è certo, Dio ci scampi dal costruire una pedagogia nazionale. Arrivederci, arrivederci, ministro. Persona squisita. Quindi, oggi di che parliamo? Nel 288 a.C., l'anno successivo alla morte del tiranno di Siracusa a Gatocle, una schiera di mercenari osci che aveva combattuto per lui si impossessò di Messina. Questi si facevano chiamare Mamertini, da Mamers, versione osca del Marte latino, e avevano instaurato un solido potentato con base a Messina, città che avevano rifondato ufficialmente col rito etrusco, come si evince da un frammento del poeta ellenistico Callimaco. Durante la guerra pirrica avevano combattuto al fianco dei cartaginesi contro il sovrano Epirota e i suoi alleati siracusani. Dopo la cacciata di Pirro dalla Sicilia, avevano rappresentato una fastidiosa spina nel fianco per il nuovo tiranno di Siracusa, Ierone II, che li aveva sconfitti in battaglia presso il fiume Longano, vicino a Milazzo, nel 269 a.C. Ierone, però, non aveva occupato Messina, probabilmente temendo un intervento cartaginese. Ma a tirare nella mischia i punici ci pensarono gli stessi Mamertini nel 265 a.C., quando chiesero e ottennero che una guarnigione cartaginese presidiasse la città in funzione antisiracusana, e contemporaneamente mandarono un messo anche a Roma, con la medesima richiesta di aiuto. Per i cartaginesi, mandare un presidio armato in una città significava implicitamente la sottomissione della stessa. I Mamertini lo capirono, cacciarono il contingente e attesero gli aiuti romani. Ma cosa aveva Messina di tanto importante? Beh, questa città si trovava nel punto di collisione di tre sfere di influenza. Quella cartaginese e quella siracusana, ovviamente, i quali cartaginesi e siracusani, come abbiamo visto nelle puntate dedicate a Siracusa, per secoli si erano contesi il dominio dell'isola. Ora, però, c'era un altro attore. Infatti, Roma aveva da poco conquistato Reggio sull'altra sponda dello stretto ed era pronta ad offrire il suo aiuto ai Mamertini, per contenere sia Cartagine che Siracusa. Ma c'era di più. Messina, con la sua posizione dominante lo stretto, era un tassello fondamentale per il controllo delle rotte mediterranee occidentali, nonché, dal punto di vista cartaginese-siracusano, un trampolino per il sud Italia. Per la verità, la situazione, nei decenni precedenti alla conquista di Messina da parte dei Mamertini, si era mantenuta in bilico, ma l'entrata in gioco del bellicoso potentato dei mercenari osci e la caduta di Reggio nelle mani di Roma, infransero i delicati equilibri di questo quadrante. Se infatti i Mamertini rappresentavano un problema soprattutto per Siracusa, i Romani sulla sponda nord dello stretto e la loro vicinanza etnica agli osci erano una seria minaccia per la politica imperiale cartaginese in Sicilia. Per questi motivi, quando nel 264 a.C. il presidio cartaginese venne cacciato da Messina, Polibio racconta che i punici assediarono la città e Ierone II, dopo aver stretto un trattato con loro, si uni all'assedio, pensando così di sbarazzarsi definitivamente dei Mamertini. Nel frattempo il Senato inviò a Messina il console Appio Claudio Caudice con le forze romane a quartierate a Reggio. Il console riuscì a forzare il blocco navale e a entrare nella città. Da notare che Roma era legata da trattati di collaborazione, potremmo dire, sia a Cartagine che a Siracusa, ed in effetti Polibio riferisce di un certo imbarazzo del Senato nell'approvare gli aiuti ai Mamertini. Aiuti poi accordati con la sicurezza che i benefici di arginare i punici sarebbero stati maggiori del detrimento derivato dall'onore tradito. Sempre secondo il racconto di Polibio, Appio Claudio guidò due sortite per spezzare l'assedio. La prima contro i siracusani, che dopo una giornata di battaglia vennero respinti nel loro campo fortificato. A questo punto Ierone, resosi conto della superiorità dei Romani, decise di abbandonare nottetempo l'assedio e ritirarsi a Siracusa. Il giorno seguente il console sbaragliò e mandò in rotta le forze cartaginesi, che si dispersero in varie città. Appio Claudio decise saggiamente di inseguire il nemico che si era ritirato in buon ordine, quindi marciò su Siracusa e l'assediò. Contemporaneamente mandò un distaccamento delle sue forze ad assediare la fortezza di Akelta, presso Camarina, al confine tra il territorio punico e quello siracusano, per coprirsi le spalle sia dai soldati di Ierone che da eventuali rinforzi cartaginesi. Nel 263 il Senato inviò in Sicilia i consoli eletti per quell'anno con quattro legioni, che significava 16.000 uomini romani e un numero imprecisato, anche se sicuramente ammontante a diverse migliaia, di ausiliari alleati, che andavano a sommarsi alle forze romane già presenti sull'isola. Quando i rinforzi sbarcarono a Messina, molte città sottomesse a Cartagine o Siracusa, si ribellarono per unirsi ai romani. Ierone allora, pensando di non poter più resistere alle legioni, cambiò bandiera e chiese la pace, offrendo rifornimenti e mettendo Siracusa a disposizione come base logistica. Con la flotta punica padrona del mare, che avrebbe potuto rendere i rifornimenti dal continente assai difficili, i romani accettarono di buon grado la proposta di Ierone, a cui venne concessa l'autonomia e il controllo della costa orientale della Sicilia fino a Taormina. È ora che comincia davvero la guerra contro Cartagine. Infatti i punici avevano radunato grandi forze ad Agrigento, forse con l'intento di portare aiuto a Siracusa. Ma avevano fatto male i loro calcoli e i romani, dopo il cambio di casacca di Ierone, marciarono su Agrigento con le spalle coperte e i rifornimenti assicurati. L'esercito punico resistette cinque mesi e sul finire del 262 tentò il tutto per tutto con una sortita. Ci fu una grande battaglia campale, i cartaginesi ebbero la peggio e Agrigento venne messa a sacco. Lo scopo della guerra era il medesimo per cartaginesi e romani, cacciare il nemico della Sicilia. Dopo la presa di Agrigento però, si era arrivati a una situazione di stallo. I romani infatti non riuscivano a prendere altre città puniche, mentre i cartaginesi spadroneggiavano sì sul mare, razziando anche le città italiche costiere, ma non potevano tagliare del tutto i rifornimenti romani, assicurati da Siracusa. Il senato quindi capì che per sbloccare la situazione occorreva battere Cartagine dove era più potente, e cioè sul mare. A questo punto credo sia necessario sfatare un paio di luoghi comuni. I romani erano senza dubbio in netto svantaggio sul mare contro Cartagine, che era la più grande potenza navale del suo tempo, ma erano altresì ben lontani dall'essere marinai d'acqua dolce o dal non possedere una flotta. Cose dette entrambe dall'autore greco Polibio, che usa questa iperbole col chiaro intento di magnificare le doti morali e organizzative dei romani, che però è stata presa alla lettera dalla storiografia per secoli e solo di recente ridimensionata. A quest'epoca infatti Roma possedeva una piccola flotta da guerra almeno da 50 anni, come ho spiegato approfonditamente nel video sulle navi romane. Poi certo, quando doveva organizzare grandi operazioni come lo sbarco a Messina, si doveva appoggiare in larga parte sulle flotte delle città marinare sottomesse, i soci navales. L'altro luogo comune riguarda il corvo. Secondo il racconto del solito Polibio, i romani, una volta deciso di sfidare Cartagine sul mare, costruirono per la prima volta 105 remi sul modello di quelle cartaginesi. Queste navi però, per l'inesperienza dei carpentieri romani, erano più scadenti di quelle puniche e i marinai meno preparati. Per colmare il divario venne installata sui ponti una passerella mobile dotata di gancio che permettesse di abbordare le navi nemiche. Secondo lo storico greco, fu grazie a questo espediente che i romani sconfissero per la prima volta i cartaginesi sul mare nella battaglia di Milazzo del 260 a.C. Bene, come ho detto sempre nel video sulle navi romane, il problema è che solo Polibio cita questa macchina, mentre altri autori che descrivono la stessa battaglia parlano di rampini, che effettivamente sarebbero anche più pratici di un ponte mobile di 12 metri, molto più complicato da manovrare, e la cui struttura avrebbe potuto minare la stabilità della nave. I corvi sono quindi un'invenzione di Polibio? Sni! Forse i romani provarono effettivamente a installare qualcosa del genere sulle loro prime quinqueremi, ma dovettero abbandonare presto l'idea per questioni di praticità, stabilità e per il fatto che i cartaginesi, dopo un'eventuale sorpresa iniziale, avrebbero sicuramente approntato delle contromisure. Personalmente credo che dietro al racconto di Polibio si cieli una novità tattica più che tecnica, con i romani che, contrariamente alle manovre navali più diffuse all'epoca, che si basavano sull'uso del rostro e degli attacchi a distanza, puntavano ad affiancare e immobilizzare le navi nemiche, creando una piattaforma galleggiante su cui i fanti potevano combattere nel modo in cui eccellevano, ovvero il corpo a corpo. Con la battaglia di Milazzo i romani avevano dimostrato non solo di saper combattere sul mare, ma anche di avere la capacità di varare moltissime navi in poco tempo, grazie agli arsenali etruschi e magno-greci. Inoltre avevano cominciato a ripagare con la stessa moneta i cartaginesi per le scorrerie lungo le coste italiche, con incursioni e battaglie navali in Sardegna e Corsica. La flotta punica dunque non aveva più il primato indiscusso sul mare, ma la situazione in Sicilia rimaneva comunque in stallo, con nessuna delle due parti che riuscisse a prevalere sull'altra. Per questo, nel 256 a.C., il Senato decise di ritentare l'impresa di Agato Cle di Siracusa, cioè portare un esercito in Africa per sconfiggere i cartaginesi a casa loro. A questo scopo venne allestita un'imponente flotta di 330 quinque remi che imbarcava, tra fanti e rematori, 140.000 uomini. Ma la costruzione di una flotta così grande non poteva rimanere segreta e i cartaginesi, venuti a sapere cosa stessero apparecchiando i romani, armarono a loro volta una flotta di 350 quinque remi e vennero a contatto col nemico a largo di Capo Ecnomo, dove la flotta romana aveva imbarcato l'esercito di invasione. Fu la più grande battaglia navale della storia e per questo ne lascerò la descrizione a un'altra puntata. Per ora vi basti sapere che i cartaginesi riportarono una sconfitta schiacciante con 64 navi catturate e 30 affondate, mentre i romani ne persero 24. A questo punto il Senato commise un grosso errore. Ordinò a uno dei due consoli che comandavano la flotta, Lucio Manlio Vulsone, di fare ritorno con la maggior parte degli uomini e delle navi per mettere al sicuro il bottino della battaglia. Mentre in Africa, presso Aspide, sbarcò solo l'altro console, Marco Atiglio Regolo, con circa 16.000 uomini e 40 navi in appoggio. Nonostante ciò, Regolo sconfisse un esercito cartaginese che gli si era fatto incontro e passò indisturbato l'inverno in Africa. Durante questa pausa Cartagine propose la pace, ma Regolo rispose con condizioni talmente dure che i punici non poterono accettare. Arruolarono quindi nuove truppe mercenarie al comando di un capitano spartano di nome Santippo, che sconfisse l'esercito romano nel 255 e prese prigioniero lo stesso Atiglio Regolo. La guerra riprese su larga scala, trascinandosi per altri 14 anni con continui rivolgimenti. I romani vinsero molte battaglie navali, ma ebbero la flotta distrutta per tre volte dalle tempeste. In Sicilia i cartaginesi persero Palermo, ma sbaragliarono i romani sia a Lilibeo che a Trapani. In tutto ciò gli arsenali varavano senza sosta navi da guerra, mettendo in mare una flotta dopo l'altra, mentre le casse delle due città si svuotavano. A Roma, per far fronte ai costi spaventosi della guerra, venne introdotta, oltre alle normali imposte già triplicate rispetto al tempo di pace, una nuova tassa copiata dal mondo greco, la liturgia, per la quale ogni cittadino facoltoso era tenuto ad armare a spese propri una nave da guerra, con la differenza che il Senato si impegnava a restituire il denaro a guerra finita e con i dovuti interessi. Alla fine, raschiando anche l'ultima manciata d'argento, Cartagine allestì una flotta di 200 navi e le radunò presso l'isola di Marettimo, con l'intento di portare aiuto a Drepanum e Lilibeo, assalite entrambe dalla flotta romana al comando del console Gaio Lutazio Catulo. Questi, presagendoli l'intervento della flotta punica, radunò le proprie navi e la intercettò a largo dell'isola di Levanzo all'alba del 10 marzo 241 a.C. Le navi cartaginesi vennero sorprese in ordine di marcia, ma riuscirono comunque a dare battaglia. Alla fine però la vittoria fu romana, con l'affondamento di 50 navi puniche e la cattura di 70. Dopo una sconfitta del genere a questo punto della guerra, Cartagine non era più in grado di mettere in mare una nuova flotta e accettò le umilianti condizioni di pace imposte da Roma. Abbandono della Sicilia e delle isole circostanti, restituzione dei prigionieri romani senza ricevere in cambio quelli cartaginesi, divieto di fare guerra a Roma e alleati e il pagamento di una pesantissima indennità di guerra. Il riferimento alle isole circostanti alla Sicilia, volutamente lasciato ambiguo dai romani, porterà altri guai a Cartagine. Ma ne riparleremo. Una piccola curiosità. Nel mare delle isole Egadi sono stati ripescati dagli archeologi subacquei molti rostri di navi affondate durante la battaglia del 241 e su quelli romani si possono leggere i nomi dei privati finanziatori di quella specifica nave. Non dimenticate di iscrivervi al canale. Io sono Mattia e questo è Humanistic Valley. Grazie a tutti. Grazie a tutti.